Mr. Heat's wrong, come hai trovato il tuo figlio? Tu non sei come quando hai fatto qualcosa o quando hai trovato qualcosa o quando hai trovato qualcosa E l'altra volta che dicevi scardola hai fatto un boccalone Ah, arrivi, arrivi Ma te per mangiare una scardola cruda, tipo sushi con un po' di soia Quanto è che vuoi? Non c'è un prezzo Non ha prezzo Non ha prezzo La scardola cruda non ha prezzo Vabbè, è cotta invece? Cotta, che fatto bene va bene Non ci sono problemi Che schifo Ma io devo impagare forte Devo portarla a custom Se no posso mettere sul franchettino Quello del... come si chiama? KVD Quello 1 No No Se passi in te Devo mettere a walk Ci andiamo di là e ripeteremo a galla A galla Con il freddo che è venuto giù No Come stai con la galla? Beh, adesso provo con... Qua è tutta acqua comunque No Più che altro che uno è un po' bello Se è uscito Ah, ce l'ha Bella madonna enorme Ciao Musica Sì, adesso in altra. Anche se ci vorrebbe come una custom. Comunque con questa esca qua ho fatto il mio primo, anzi no, con quella più grosso ho fatto il mio primo Crappy. Comunque è strano. Pesce. Io venivo qua. Pesce ne facevo a manetta. La lepre. Figa. Andiamo sul naviglio. Compriamo un po' di bigattini e andiamo sul naviglio. Oh, ce l'ho. Un po' che faccio. Come se ne è andato? Non capisco. Ah no, c'è ancora. Dai, se la batteria ce l'hai, perché a me si scappa. Ah, Cristo Dio. Ah, ah, ah. Arco Dio. Figa. Almeno l'ha mangiato bene però dalla testa, cioè non è dentro. Ah, ok. Ah, la Madonna di Dio, hai visto? Oh, proprio Dio. Mi ho fatto il fioretto che non bestemmiavo. Gesù farà un'eccezione per questo. Dai, Naito. Oh, ho mangiato, eh? Oh, ho mangiato, eh? Ho una carpetta, cos'è che è? Ehi, la Madonna, la stanno ferrata da... No, 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 ce la... Ma va affanculo, va. No, chi... Spossa un po', basso la canna. Spassa. Sì, sì. Allora, voi... Goddess, una caricia e un sentito, ne c'è la mano che è in una posizione sterana. Ma che la fornita ne canà rende la testa! Buona frae, a me parte del braccio mi è sissata Se non vincere mai un sistema mi è sissata Il secondo vlog, il secondo vlog è riuscito Buona secatture, siamo tornati a casa, andiamo a casa, ci diamo questa mattinata alla bellezza delle onte e mezza, la gente qua si va al lavoro, ormai a lavorare, andiamo a casa a dormire e a mangiare, sperando, parlo come un bergamasco, è un veneto anche un bergamasco Dunque abbiamo finito, io ho fatto più tre pesci, una roba indiscente Diverse catture, ho fatto tre catture praticamente in totale, mezza io, mezza lui, mezza lui Mezza io, mezza lui, mezza quest'auto, perché è una baria E' vecchio, già da lavorare E basta, ci vediamo la prossima, dai, per un video Grazie a tutti Grazie a tutti Grazie.